Ciao a tutti, oggi prepareremo le uova strapazzate con fontina e speck. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono olio evo, speck tagliata a listarelle, uova, latte, sale, pepe, fontina e pane tostato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo speck e l'olio ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere le uova, il latte, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 3. Facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la fontina e cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 2. le uova sono cotte, servire con pane tostato. Uova strapazzate con fontina e speck. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.